Amici del Romagna Trout, ma soprattutto amiche del Romagna Trout, buongiorno a tutti, siamo nel torrente Sermenza a 1500 metri di altezza, è uno spettacolo, sto pescando da più o meno un'ora, avrò già preso una quindicina di trout, tutte meravigliose, tutte bellissime, tutte vari o piccini, ho preso anche un ibrido di marmorata, guardate che trotta, guardate gli spettacoli, queste piccoline, le abbiamo prese anche delle molto 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 più belle, roba da 40 cm, guardate che posto meraviglioso, sotto questo costone, questa piana è una bolleria indescrivibile, dice Daniele, Beh ragazzi che dire, è un bombardamento, è un bombardamento, spaventoso, spaventoso Aspetta, fai per, aspetta un po', ha preso il trottone secolare, ragazzi siamo spaventosi, ho fatto un lancio in un burro, tembissimo, guarda, 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 guarda di stare sotto soli. Guardate ragazzi che trovi che stiamo prendendo, che avremmo già preso io non lo so da cinquantina, guarda che roba, molto bella. Sembrano dipinte, guarda che roba. Sembrano Allora, è stato un bombardamento, il posto è meraviglioso, sicuramente da provare Grazie Grazie